È stata un'accoglienza partecipata e calorosa a quella che gli abitanti di Saltara hanno riservato venerdì 10 settembre a San Pier Celestino. L'arrivo delle spoglie del Santo, che hanno varcato per la prima volta i confini abruzzesi, ha ufficialmente aperto la settimana giubilare celestiniana. Il corpo di Celestino è stato accompagnato dalle autorità civili, militari, religiose e dai numerosi fedeli da Piazza Garibaldi fino alla Chiesa di San Giovanni Apostolo, dove rimarrà fino alla sua partenza venerdì 17 settembre. San Pier Celestino ha sottolineato il Vescovo Armando nell'Omelia, rappresenta per tutti noi un vero messaggio di pace. Monsignor Trasarti ha poi proseguito sottolineando come la perdonanza tanto cara a Celestino ha oggi una provvidenziale valenza sociale, un invito ad un'operosa concordia per il bene della città.